Cade la diesel tecnica sul campo della Castania Basket Messina con il risultato di 73-65. I Blue Boys non entrano bene in partito e partono subito sotto con un parziale di 12-0 a favore dei siciliani. Un timeout di coach Patrizio rimette le cose in ordine e i Blue Boys riescono a restare attaccati alla partita. Al termine dei primi due atti il tabellino indica 44-40 per i locali, con i Blue Boys però costretti a fare a meno della propria punta di diamante Lautaro Fraga, espulso nel secondo quarto dopo aver reagito ad una comitata. Alla ripresa di gioco i Blue Boys restano in partita fino alla fine, lottando con le unghie e con i denti, ma nel finale cedono ed escono sconfitti con il risultato di 73-65. Stoppare questa scia negativa e resettare subito è l'imperativo suonato da coach Patrizio, che non vuole più commettere passi falsi a partire dalla prossima domenica, dove i Blue Boys torneranno tra le mura di casa per affrontare la Virtus Ragusa.